Ciao, sono Federico, uno dei Tutor GiaSchool. Nella lezione di oggi vedremo il metodo di riduzione. Prima di partire con la lezione, ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti oppure di visitare il sito jazzchool.it per altre lezioni di matematica e geometria. Partiamo con l'esercizio. Quando ci troviamo davanti alle moltiplicazioni, come in questo caso, la prima cosa da fare è risolvere il primo passaggio della prima equazione, proprio con la moltiplicazione. Iniziamo calcolando. 2 per x più 2y. Calcoliamo 2 per x e otteniamo 2x. Dunque, riportiamolo. Ora passiamo a fare 2 per 2y, che ci dà come risultato 4y. Infatti, 2 per 2 fa 4. E poi riportiamo anche la y. Se hai problemi e non ricordi come fare questi passaggi, dai un'occhiata sul sito e cerca equazioni. Nella prima equazione non possiamo fare più nulla, quindi ricopriamo tutto il resto. Meno 3 uguale 3 più y. Passiamo alla seconda equazione. Anche qui dobbiamo svolgere la moltiplicazione 8 per y meno 2. Prima però, riportiamoci il 3x. Ora svolgiamo il calcolo e facciamo 8 per y, che ci dà 8y. Quindi riportiamolo. Ora calcoliamo 8 per meno 2, che fa meno 16. Infatti, 8 per 2 ci dà 16. Mentre il segno meno lo otteniamo, poiché l'8 ha segno positivo, quindi più. Mentre il meno 2 ha segno negativo. Quindi, quando facciamo più per meno, otteniamo come segno meno. Ora riportiamo l'uguale e anche la x. Bene, dopo aver svolto le moltiplicazioni, il nostro obiettivo è quello di portare tutte le incognite al primo membro. Dunque dobbiamo spostare tutti i termini con la x e con la y al primo membro. Inoltre dobbiamo mettere tutti i numeri al secondo membro. Ciò serve per poter applicare con facilità il metodo di riduzione. Dunque, nel prossimo passaggio, spostiamo tutti i termini con la x e con la y al primo membro. Adesso partiamo dalla prima equazione. E possiamo facilmente vedere come sia presente solo un termine con la y al secondo membro. Dunque, è l'unico da spostare al primo membro. Ora riportiamo il 2x più 4y. Spostiamo la y dal secondo membro al primo, che diventa quindi meno y. Infine, riportiamo il meno 3 e poi uguale 3. Passiamo alla seconda equazione. Anche qui dobbiamo spostare solamente un termine. La x al secondo membro deve andare al primo membro. Dunque, riportiamo il 3x e poi spostiamo la x dal secondo membro al primo. E quindi cambiamo segno. Scriviamo quindi meno x. Poi riportiamo il più 8y meno 16 uguale 0. Al secondo membro abbiamo lo 0 perché la x che c'era prima è stata appena spostata al primo membro. E dunque, al secondo membro non è rimasto nulla. Per questo mettiamo lo 0. Nel prossimo passaggio spostiamo invece tutti i numeri, quindi i termini senza la lettera x e la y al secondo membro. Iniziamo dalla prima equazione e riportiamo il 2x. Poi notiamo che abbiamo 4y meno y. Quindi possiamo già calcolarlo e otteniamo 3y. Quindi possiamo riportarlo. Ora dobbiamo spostare il meno 3 dal primo membro al secondo, sempre ricordandoci di cambiare segno. Quindi ricopriamo prima l'uguale e il 3. Ora mettiamo il meno 3 del primo membro cambiato di segno che quindi diventa più 3. Passiamo sulla seconda equazione dove dobbiamo spostare il meno 16 dal primo al secondo membro. Quindi riportiamo il 2x che abbiamo ottenuto facendo direttamente il calcolo 3x meno x. Quindi trascriviamo tutto il resto più 8y. Riportiamo l'uguale e il 16 cambiato di segno, mentre lo 0 non ha più valenza. Dunque non lo consideriamo. Tutto chiaro? Proseguiamo. E ora calcoliamo la somma al secondo membro della prima equazione. Dunque, riportiamo il 2x più 3y e l'uguale. Ora facciamo 3 più 3 che ci dà 6 e riportiamolo. Sulla seconda equazione non dobbiamo fare nulla, quindi la ricopiamo esattamente come prima. Siamo arrivati al passaggio più importante dell'esercizio. Ciò che dobbiamo fare ora è fare una sottrazione tra le due equazioni cercando di semplificarne un termine. Non preoccuparti. Facciamo subito un esempio per capire meglio. Osservo che sia nella prima equazione che nella seconda appare un 2x. Quindi potrebbe essere una buona idea fare la sottrazione tra la prima equazione e la seconda per cercare di cancellare il termine 2x. Tracciamo una linea orizzontale al di sotto della seconda equazione ed aggiungiamo il segno meno tra la prima equazione e la seconda. Quindi devo calcolare il 2x meno 2x ossia il 2x della prima equazione meno il 2x della seconda equazione. Il calcolo è facile perché 2x meno 2x ci dà 0. Per il momento possiamo riportarci la scrittura 0x solo per rendere ben visibile il fatto che lo 0 fa riferimento alla x. Qui fai attenzione perché non dobbiamo calcolare più per più. Dobbiamo tenere in considerazione il meno della sottrazione. cioè dobbiamo fare una sottrazione senza tenere in considerazione la x, la y e i segni relativi. Chiaro? Proseguiamo e facciamo la stessa cosa con le y. Dunque ci calcoliamo 3y meno 8y. Il calcolo anche qui è facile. E 3y meno 8y ci dà meno 5y. Dunque riportiamo al di sotto della linea orizzontale il meno 5y. Proseguiamo e facciamo la stessa cosa con il numero dall'altra parte dell'uguale. Prima però riportiamoci il simbolo uguale al di sotto della linea orizzontale. Ora calcoliamo 6 meno 16 e otteniamo meno 10. Quindi riportiamoci il meno 10 al di sotto della linea orizzontale. Bene ora la situazione sarà più chiara. Non abbiamo fatto altro che sottrarre la prima equazione la seconda equazione. Il risultato di questa operazione lo vediamo al di sotto della linea orizzontale che abbiamo tracciato. Da adesso in poi possiamo scegliere una delle nostre due equazioni e sostituirla con la nuova equazione ottenuta tramite quest'ultimo passaggio. Ad esempio possiamo scegliere di tenerci la prima equazione. Quindi proseguiamo e scriviamo 2x più 3y uguale 6. E poi come seconda equazione ci riportiamo meno 5y uguale meno 10. Continuiamo e adesso non ci resta che calcolare il valore della y nella seconda equazione. Dunque la prima equazione la ricopriamo esattamente uguale a prima. Nella seconda equazione in realtà ci basta dividere tutta l'equazione per meno 5. Quindi scriviamo meno 5y fratto meno 5 uguale meno 10 fratto meno 5. Possiamo quindi semplificare al primo membro il meno 5 al numeratore con il meno 5 al denominatore. Rimane quindi solo la y. Al secondo membro invece possiamo semplificare il meno 10 al numeratore con il meno 5 al denominatore e otteniamo meno 2. Infatti 10 diviso 5 fa 2. Inoltre il meno 10 assegno meno il meno 5 anche e dunque meno diviso meno ci dà più. Andiamo al prossimo passaggio ed ora non ci resta che sostituire il valore della y appena trovato nella seconda equazione nella prima equazione. Dunque nella prima equazione al posto della y mettiamo il numero 2. Otteniamo quindi 2x più 3 per 2 uguale 6. Come notato abbiamo ottenuto 3 per 2. Sì ma perché? Partiamo dal fatto che parliamo di monomi cioè quando vediamo le lettere davanti ai numeri ciò significa che 3y equivale a 3 per y anche 2x vale 2 per x cioè mettiamo il per davanti perché è come se ci fosse ma non lo scriviamo per semplicità di lettura. Capito questo? Il risultato ottenuto dalla seconda equazione è y uguale a 2 quindi trascriviamo 2x più 3 che è il valore del coefficiente della y con il risultato ottenuto dalla seconda equazione che è 2y se fosse stato y uguale ad 8 per intenderci avremmo dovuto fare 3 per 8 tutto chiaro? Proseguiamo nella seconda equazione riportiamo y uguale 2 proseguiamo e ricopiamo il 2x poi calcoliamo il 3 per 2 che ci dà 6 quindi lo scriviamo infine ricopiamo l'uguale e il 6 la seconda equazione rimane sempre y uguale a 2 andiamo avanti e spostiamo il più 6 dal primo al secondo membro sempre ricordandoci di cambiare segno riscriviamo quindi il 2x e poi l'uguale ora mettiamo il 6 e infine il meno 6 cioè il più 6 di prima cambiato di segno la seconda equazione rimane sempre y uguale a 2 bene ora riscriviamo il 2x e l'uguale e calcoliamo 6 meno 6 che ci dà 0 dunque riportiamolo scriviamoci nuovamente alla seconda riga y uguale a 2 ora il metodo vuole che dobbiamo dividere tutta la nostra equazione per 2 otteniamo quindi 2x fratto 2 uguale 0 fratto 2 dunque al primo membro possiamo semplificare il 2 al numeratore con il 2 al denominatore riportiamo nuovamente y uguale a 2 ultimo passaggio è scrivere il risultato che è quindi x uguale a 0 infatti 0 fratto 2 ci dà 0 e come sarà già chiaro y uguale a 2 alla seconda riga dunque il risultato del sistema iniziale è x uguale a 0 e y uguale a 2 bene prima di chiudere ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti tutti gli aggiornamenti oppure visita il sito jazzcool.it per tutte le lezioni di geometria e di matematica adatte a te la lezione di oggi finisce qui se non ti è chiaro qualche passaggio riascolta la lezione con calma dal tutor Federico è tutto ciao ciao